Confermato lo sciopero di quattro ore di domani da parte di CGL e UGL in merito al tema dei trasporti pubblici, l'incontro avvenuto pochi giorni fa con il sottosegretario della Regione Abruzzo d'Alessandro non è valso ad un ripensamento e oggi si pensa ai motivi diversi da quelli addotti durante l'incontro. Vedremo la partecipazione, francamente non è che mi esalta se non parteciperanno o mi abbatte se parteciperanno tanti perché è un diritto sacrosanto dei lavoratori rappresentare il loro punto di vista anche attraverso la funzione del sciopero. L'amarezza da parte di D'Alessandro ma anche un pugno fermo nell'annunciare che la riforma dei trasporti andrà avanti e che anche gli scontenti dovranno adeguarsi a nuove dinamiche lavorative. Non può essere che uno lavora tre ore al giorno e prende lo stipendio, pare a uno che ne lavora sei, che per andare a Roma ci vogliono due autisti, uno che lo porta all'andata all'autobus e uno che lo porta al ritorno e mi fermo qui perché credo che non sia necessario andare ulteriormente. Certo è che dopo lo sciopero noi come Regione andremo avanti con i sindacati che hanno invece sottoscritto l'accordo. Già calendarizzate le date per arrivare a un contratto nuovo di secondo livello.